Musica Bentornato Cutler, bentornata andiamo a parlare di download e upload diciamo subito che traducendolo dall'inglese scaricamento e caricamento non è che sono proprio delle belle parole quindi dato che la traduzione non rende molto l'idea utilizziamo le parole download e upload Cos'è un download? Indica l'azione progressiva di ricezione, quindi scaricamento di materiale informatico, file o gruppi di file da un dispositivo esterno al computer o da un server verso il pc stesso In pratica si configura con l'azione di voler trasferire del materiale da un dispositivo fisico tipo una pen drive una pennetta USB o da un sito al proprio computer all'interno del proprio disco rigido La cosa che voglio precisarti immediatamente è che già la semplice navigazione internet è un download Infatti le pagine web sulle quali navichi e che verranno visualizzate sul tuo browser attraverso il tuo browser sono in realtà dei bit, byte, kilobyte e in alcuni casi megabyte che saranno scaricati nel tuo disco rigido Hai mai visto per caso l'effetto di una pagina web che inizia pian piano a comparire sul tuo monitor in maniera lenta, discreta, a pezzi? Questo perché il browser comincia ad interpretare il materiale i pacchetti di bit che riceve dal server quindi il computer centrale sul quale è presente il sito e dal quale richiedi le pagine web Ogni pagina web che visiti pesa all'incirca poche centinaia di kilobyte e mentre stai leggendo queste righe i bit che ho creato in questa lezione stanno ingolfando il tuo computer Sei libero di dirmi Bravo Carlo, mi stai appesantendo pure il PC Ok, tranquillo, good Un bel giorno ti spiegherò come eliminare i miei bit dal tuo computer Già questo è per farti capire che con il passare del tempo il tuo disco rigido mangiando bit si ingrasserà e se non effettuerai mai la rimozione di questi pacchetti di bit ti ritroverai con un sistema operativo talmente ingolfato che la reazione ad ogni singolo click che seguirai con il mouse ti lascerà il tempo di prepararti e prenderti un bel caffè sarà infatti bloccato apparentemente Tornando a parlare di download ora dovrai concretizzare come si eseguirà il download Il download si può eseguire in vari modi ad esempio banalmente il semplice copia e incolla da una periferica esterna al PC lo puoi configurare come tale come uno scaricamento in quanto i file passeranno da una periferica esterna all'interno del disco rigido del tuo computer se parliamo invece di un sito web il materiale da poter scaricare potenzialmente può essere di varia natura puoi scaricare l'intera pagina web del sito un'immagine dello stesso o tutto il materiale multimediale audio e video pubblicato in esso una presentazione powerpoint un documento pdf oppure editato con la suite di office un programma qualsiasi dei pacchetti di file, stringhe di codice di un programma e molto molto altro ancora come puoi vedere la lista è abbastanza folta la cosa che devi comprendere è che il materiale lo puoi ottenere o in maniera semplificata perché magari messo a disposizione dal proprietario dello stesso come stai seguendo questo percorso didattico o perché il detentore di questo materiale non attiva artifici software per evitare il download dello stesso e quindi potrebbe anche in linea teorica limitare o impedire o tentare di impedirne il download se vuole limitare la sola visione ovviamente il suo intento sarà di fornire informazioni più o meno complete esistono degli artifici software proprio per impedire le azioni di download del materiale presente sulle pagine web ma come spesso dico chissà domina nel bene e nel male quindi ad una strategia che impedisce una determinata azione si contrappone una contro strategia per scardinare tale impedimento è un rincorrersi continuo a chi supera l'altro premesso ciò interviene anche l'etica del navigatore perché un utente conoscitore può decidere o di non scaricare alcun materiale o scaricare materiale per uso personale scaricare materiale e condividerlo con altre persone ed infine scaricare materiale e lucrarci nelle varie situazioni si potranno infatti realizzare condizioni anche di illegalità oltre che immoralità tanto maggiore è vero quanto più si ha a che fare con materiale non libero ma coperto da diritti d'autore e quindi in definitiva la scelta è del tutto personale e la consapevolezza delle implicazioni della stessa non la devi sottovalutare se il materiale è messo a disposizione volutamente dal detentore ovviamente troverai dei chiari pulsanti per scaricare il materiale stesso e anche in alcuni casi spiegato in varia maniera alternativa è utilizzare dei programmi dedicati o componenti aggiuntivi plug-in dei vari browser i quali reagiranno in base alle loro specifiche quando all'interno della pagina che andrà a visionare si presenterà materiale compatibile con la loro natura e quindi saranno in grado di scaricarlo riconoscendone appunto le caratteristiche del file cliccando sul pulsante del plug-in del componente aggiuntivo che si animerà potrai scaricare il file stesso se hai la necessità di ottenere immagini potrai ricorrere o a programmi specifici come detto prima che cercherai e scaricherai e nel caso ti servano ovviamente installerai sul tuo computer oppure in maniera molto più semplice a volte potrai cliccare sulla stessa quindi sull'immagine con il pulsante destro del mouse e dal menu che si genera andrai ad individuare il pulsante che verosimilmente ti permetterà di salvare l'immagine stessa nel disco rigido altra alternativa è realizzare un fermo immagine dello schermo del monitor fare una fotografia a ciò che stai vedendo ciò lo otterrai premendo il tasto stamp e resiste che è il tasto che si trova accanto all'F12 aprendo successivamente un programma di grafica o di scrittura e premendo la coppia di tasti CTRL V che è l'azione di incolla visionerai quanto memorizzato successivamente potrai ritagliare la parte dell'immagine di tuo interesse salvare e il gioco è fatto se invece vuoi salvare la pagina web che stai consultando ti sarà sufficiente regarti nella barra dei menu del browser quella che si trova in alto e dal pulsante file dalla sezione file clicca dal menu che si genera sul pulsante salva pagina con nome oppure salva con nome o qualcosa del genere dalla finestra che si aprirà potrai selezionare la modalità e il formato di salvataggio della pagina web così la potrai anche consultare su un computer offline quindi non connesso ad internet potrai salvare quindi la pagina web o come archivio come file unico il quale ha un'estensione .mht oppure come pagina completa che può avere un'estensione o .htm o .html allora che si creeranno due file uno con estensione appena evidenziata quindi che avrà il nome della pagina web che stai consultando e un altro file che in realtà è una cartella al cui interno ci sono dei componenti relativi alla pagina web stessa se dovessi avere difficoltà potrai comunque selezionare con il mouse tutta la porzione e la sezione della pagina di tuo interesse tenendo premuto il pulsante sinistro poi selezionai il copia e incolla e lo potrai trasportare tutto il contenuto all'interno di un documento Word ad esempio un discorso particolare può essere eseguito con i video esistono siti che mettono a disposizione opzioni per i download semplicemente inserendo in una campo in una finestra l'indirizzo della pagina web dove presenti il video che stai vedendo e quindi potrai scaricarlo oppure far uso di programmi di terze parti o plugin o componenti aggiuntivi come abbiamo detto poc'anzi per i browser in estrema ipotesi potresti utilizzare anche programmi in grado di registrare tutto quanto si vede a schermo un po' come sto facendo io per registrare questa video lezione successivamente editarlo con lo stesso programma o con programmi alternativi amba gli estremi naturalmente estremi rimedi a volte comunque non sarà il massimo perché dipende dalla qualità del video dalla fonte ma è comunque il risultato è raggiunto ora il simmetrico del download definito come caricamento ossia l'upload cos'è un upload? è la procedura inversa che prevede la trasmissione ossia l'invio di uno o più file da un mittente ad un destinatario il destinatario può configurarsi come altra persona oppure come server se vuoi inviare un'email ad un tuo amico o una tua amica comprenderai facilmente cosa intendo dire con inviare ad un'altra persona o a un destinatario ma inviare un file ad un server potrebbe crearti qualche difficoltà di comprensione e quindi spieghiamolo con un esempio immagina me Carlo al computer che scrivo questa lezione utilizzo il mio computer un programma di scrittura per editarla terminato l'articolo dovrò inserirlo nel sito un possibile modo di inserimento ma non il solo prevede l'invio dell'articolo alla piattaforma che gestisce il mio sito che in questo caso è Blogger il processo di invio dell'articolo quindi il trasferimento sulla piattaforma è proprio chiamato caricamento in inglese upload in sintesi quindi dal tuo computer potrai inviare file di varia natura via posta elettronica o via server attraverso un server se un file è di grosse dimensioni dovrai far uso di programmi o piattaforme dedicate al trasferimento di file pesanti a margine riprendendo il discorso citato per la navigazione internet ti dico che essa stessa prevede un flusso bidirezionale di bit quindi un upload e un download perché prendi ad esempio un browser nel momento in cui digiti nella barra degli indirizzi la url di un sito ad esempio thegoodil.com il browser invierà una richiesta al server in cui risiede quel determinato sito quindi di fatto avvierà un processo di upload il server a sua volta risponderà al browser spedendo e quindi eseguendo il download i pacchetti di bit richiesti che saranno quelli contenenti i dati necessari a visualizzare il contenuto e la pagina web che sarà poi interpretata dal browser e visualizzata sul tuo monitor e qui entra in gioco la velocità ricorda che la velocità del flusso di bit dipende da vari parametri come prestazioni del tuo computer la banda che avrai acquistata o sarà disponibile dal provider l'ottimizzazione che sarai stata in grado di eseguire sul tuo computer e eventuali limitazioni di upload e download del server al quale ti connetterai ma non è tutto questo comunque per aggiungere qualche altra nozione potrai visionare la rubrica the good answer e la fattispecie la domanda risposta numero 21 nel quale ho evidenziato in maniera un po' più dettagliata come spedire un file ad una persona utilizzando vari servizi eccoci all'interno della pagina del nostro sito e vediamo come poter eseguire alcuni salvataggi alcuni scaricamenti passiamo subito a un'immagine qui abbiamo l'immagine di un libro se vogliamo salvare questa immagine possiamo o cliccare con il tasto destro e selezionare salve immagine con nome nel menu che si apre selezionerai la partizione dove salvare darai un nome all'immagine e salverai la stessa come possiamo vedere ripetendo l'azione troverai l'immagine già memorizzata oppure potrai copiarla tranquillamente con il pulsante copia immagine aprire un documento di Word e con il tasto incolla la potrai incollare oppure all'interno di un programma di grafica potrai eseguire la stessa operazione anche in questo caso con incolla chiudiamo pure l'immagine e cancelliamo anche questa per un successivo utilizzo proseguiamo con il salvataggio di una parte del sito se vogliamo selezionare soltanto una sezione tramite il mouse come potrai aver visto puoi selezionare la sezione di tuo interesse dopodiché con il tasto destro potrai copiare questa sezione ed incollarla all'interno di un documento Word per editarla successivamente chiudiamo pure ora senza salvare il file potrai anche salvare l'intera pagina web cliccando o sul pulsantone del browser oppure sulla barra dei menu ti comparirà sicuramente il pulsante file nel quale scorrerai l'opzione salva come o salva pagina con nome anche qui andrai ad individuare la sezione dove salvare la pagina web in questo caso come pagina completa oppure potrai scegliere come archivo web file singolo la differenza è che in questo caso come archivo web file singolo avrai salvato soltanto un file al cui interno sono presenti tutti i dati della pagina web oppure salvare come pagina completa HTML o HTML salvare la stessa e vedremo che il salvataggio sarà compiuto con due file uno con estensione HTML e l'altro contenente dei file relativi alla pagina web stessa se vorrai salvare la pagina come singolo file ripetiamo la procedura salva con nome e vai a selezionare in questo caso archivo web file singolo e la pagina web sarà salvata come unico file al cui interno sono presenti tutti i dati relativi alla pagina web stessa altra possibilità è eseguire lo screenshot del monitor dell'immagine potrai eseguirlo premendo il tasto stamp ersyst presente sulla tassiera accanto al tasto F12 dopodiché aprire ad esempio un file di grafica ed eseguire l'opzione incolla in questo caso avrai la pagina web trasformata in immagine sarà poi tua cura eventualmente selezionare soltanto la parte che ti necessita ed eseguire una riduzione oppure parzializzare con una sola immagine ecco i possibili modi di salvare una pagina web o un suo componente all'interno andiamo a vedere adesso per quel che riguarda dei video cambiamo browser perché vi faccio vedere che ho installato nel browser mozilla firefox un componente aggiuntivo che nel momento in cui si evidenzia un video lui stesso reagisce e in questo caso si anima qui in alto a sinistra potrai decidere di selezionare la qualità di salvataggio del file stesso eseguendo un download rapido o quello che normalmente utilizzo un download cliccando su questo pulsante si avverrà appunto lo scaricamento di tutto il video ma come ho detto in precedenza potrai utilizzare anche altri programmi dedicati o siti web dedicati per il download dei video per quel che riguarda invece l'invio dei file quindi l'upload ti rimando alla consultazione delle lezioni riferite alla posta elettronica oppure alla consultazione dell'articolo The Goodly Answer numero 21 nella quale sarà evidenziata tutta la spiegazione di come inviare i file ad un server alla prossima lezione con nuove informazioni didattiche ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima a presto